tante angolazioni, questo è solo per farvi vedere un piccolo esempio su attacco da pugno possiamo usare anche questa tecnica, cioè la ginocchiata, salente ne abbiamo anche di ginocchiate tanti tipi, poi passeremo al lato tecnico, avremo tanti esempi vari su come applicare tecniche di difesa professionale ci sono tantissime combinazioni di attacco pugno, pugno, calcio, ma ne abbiamo un'infinità in cui possiamo usare, come si diceva, sempre per difesa ovviamente grazie grazie